Un momento speciale per la nostra associazione che ha a che fare con una mostra in corso da diversi mesi di Enrico Mosconi, un grafico pubblicitario di Pesaro che fa ricerca sulla fotografia. La sua mostra si può vedere qui dove siamo adesso alla galleria a cielo aperto centrale Edicola e nelle sale interne del caffè centrale. Poi abbiamo inaugurato il 20 gennaio con la presenza del presidente Mattarella a Pesaro la mostra allo spazio bianco Pesaro in un oggetto, una mostra che sta avendo un grande riscontro e abbiamo avuto recentemente la visita anche del sindaco del comune di Pesaro Matteo Ricci. La mostra poi continuerà fino al 18 febbraio e avremo venerdì prossimo la visita guidata con il Fai Provinciale. La mostra di Enrico Mosconi continua fino al 18 febbraio. Sabato 10 febbraio inizia il nuovo progetto didattico di centrale fotografia dal titolo Elementi creativi della fotografia, dall'idea alla post-produzione. Il videomaker Lorenzo Bambi farà appunto delle lezioni importanti per essere più creativi e consapevoli con il linguaggio fotografico. Se volete ci sono rimasti gli ultimi posti. Per iscriversi al corso e contattare Centrale Fotografia potete usare la mail info-centralefotografia.com oppure il telefono 347 29 74 406.